Ragazzi siamo quasi arrivati ad Arese, cameraman, dobbiamo incontrare Mango Angi e andiamo in casa come balla tutto Mi faccio il parrucchio, mi faccio il parrucchino, andiamo all'evento fatto in casa da Benedetta ad Arese e ci ha chiesto Mango Angi che ci segue se la incontriamo visto che va anche lei a vederla l'ha fatta in casa da Benedetta vediamo cosa fa sta Benedetta in casa, andiamo a vedere è fuori casa perché a casa della Benedetta andiamo a vedere cosa faceva di buono siamo quasi arrivati ad Arese, adesso appena arriviamo ad Arese vi facciamo vedere e poi... stiamo atterrando con l'aereo ooooooooooo stiamo atterrando a malpensa mi viene a vomitare con tutti questi buchi che ci sono, che strana che hai fatto Ragazzi siamo arrivati ad Arese non c'è nessuno eh non c'è nessuno siamo noi che apriamo il portone è ancora presto ci hanno detto 10 e mezza la Bene alle 11 fatto in casa da Benedetta alle 11 il cadreghino ma che roba ma che spettacolo ma che ti portano in non si può salire ti sputta in faccia è un lama lo vedi che è un lama? scendimi ti sei incassato il panettone lì non esce più di lì è spettacolo guardate che ragno madonna che ragno gigante il pipistreus il pipistrel oh che ragno ho preso il cappottino per la laurea del cameraman riprendimi un attimo ditemi se vi piace questo cappottino qua dietro ho fatto col piccolo è largo è molto può andare? è sotto il vestitino con brillantini mi piace? ragazzi ecco qui mango, angi e gigi guardate quanti libri che ha qua e l'evento inizia alle 11 ragazzi mango, angi abbiamo preso il libro fatto in casa al benedetta della benedetta io è il primo io ho preso quello della benedetta a paroli però stavolta prego questo perché è più bravo noi diciamo sono bravi sono bravi tutti e due lei fa cose bene anche ok bravissima la benedetta fa cose più semplici è come me come faccio io apro un figo e via adesso andiamo a vedere la benedetta ciao 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 non è che prendiamo che vieni di qua ecco è calzato ciao ciao a tutti lui è Gigi il marito della mango angi ciao andiamo a vedere la benedetta stiamo aspettando di vedere la benedetta con Marco e Gigi siamo sempre noi quelli di prima che stiamo aspettando di andare a vedere la benedetta Marco il marito Marco quando non ci mandano via rimaniamo qua sì sì abbiamo preso il libro ed aspettiamo e poi facciamo pure la foto certo ciao ciao guarda ci trovo questa signorina qua la signorina è la signora benedetta la signora benedetta che è il suo canale il suo canale youtube il canale youtube si chiama fatto in casa da benedetta ma che youtuber abbiamo incontrato una signorina non c'è nessuna molto carina che aprirà un canale anche lei guardatela come ti chiami? mi chiamo Silvia e cosa fai? io mi occupo di orto orto e cucina orto e cucina attenzione che sentiremo parlare sì sì ma ho già in mente il nome del canale come si chiamerà? rebelhort ma che bello mi piace già questo nome cioè capito va bene allora ti aspettiamo che apri il canale assolutamente a breve su questi schermi a breve su questi schermi cosa vuoi te? fai vedere che non c'è nessuno ma guardate ragazzi che coda stiamo aspettando c'è anche un'altra bella signorina qua come ti chiami tu? giusi giusi guarda che entrerai nel mio video va bene va bene guardate che bella guardate che occhi ragazzi questa mora e stai aspettando anche te guarda anche lei benedetta benedetta del signore benedetta dal signore guarda che coda che stiamo facendo per te per venire a fare una foto e l'autografo ragazzi prima o poi ci arriveremo con l'onorete ci siamo a dopo mozionata la me la mozionata tranquilla sei bravissima perché sei semplici per le cose è sempre buonissima con una semplicità che non mi piace ok grazie che bravi ciao salutiamo tutti con Gigi con il libro della benedetta Anji e il libro della benedetta ciao ragazzi ciao ciao due persone straordinarie ragazzi ciao ciao